Ciao amici come state? Spero tutto bene! Oggi torniamo nella serie di Poppy Playtime e andremo a reagire a nuovi filmati di Poppy Playtime capitolo 3 Ma che roba! Si sono usciti dei nuovi filmati, li voglio vedere qua insieme a voi Quindi nel frattempo ci sono tantissimi like per supportare la grande questa serie E se vi piacciono questi tipi di video, questi tipi di giochi, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina Prima di partire ci tenevo a ringraziare Francesco Nardello Tube per chi ha fatto l'abbonamento al canale Grazie mille davvero tanto per esserti abbonato Adesso devi partire, cominciamo! Vi ricordo come al solito che questi qua sono filmati fan made Lo devo sempre specificare, altrimenti la gente comincia a scrivere sotto nei commenti che sono filmati fake No, sono filmati fan made E adesso tocchiamo play Vediamo questo primo filmato che si chiama Poppy Playtime capitolo 3 Daisy Minigame and Trains Quindi l'entrata di Daisy del minigioco Fatto da Motia Games Perfetto Vediamo qua Ci stiamo avvicinando verso questo ingresso Guardate qua Questo dovrebbe essere l'ingresso di Daisy da come ho capito Sì, guardate Quante Daisy E c'è un display Mamma mia No, guardate Guardate qua Bisogna trovare la giusta Daisy Prima che quella originale mi venga a prendere Ok L'abbiamo trovata Sì, ce l'abbiamo fatta E ora Aspettate Ah, questo è un altro video Questo sarebbe il video numero 2 Che si chiama Poppy Playtime capitolo 3 Ho incontrato Aghiwaghi giallo Più jumpscare Quindi c'è pure lo jumpscare E questo qua è la parte numero 1 Vi ricordate infatti In qualche video scorso Che abbiamo parlato di Aghiwaghi giallo Quello che è riuscito a scappare Infatti Se vi ricordate bene Quando noi andiamo all'interno della Game Station Dopo aver affrontato il Wakawaghi Ci sono appesi I mini Aghiwaghi Quelli rossi Blu e verde Ma manca quello giallo Probabilmente quello l'ha riuscito a salvarsi E a scappare E potrebbe comparire in un prossimo capitolo Di Poppy Playtime Qui praticamente in questo filmato Fatto da Motiagames Possiamo vedere come potrebbe essere Questo Diciamo incontro con Aghiwaghi giallo Tra l'altro Mi è stato pure riferito Che Motiagames Collabora insieme ai Mob Games Cioè nel senso Per fare queste animazioni Ci sono pure i Mob Games Che gli dà una mano Quindi Tocchiamo subito Play E andiamo a vedere questo secondo filmato Vai Ok Il player con la mano gialla Eccolo lì Guardatelo Mamma mia Aghiwaghi giallo Ma subito mi ha preso Ma dai Ma che roba Innovation is gay Ho capito E l'ho capito Però dai Cioè qua abbiamo visto Aghiwaghi giallo Che si è avvicinato da noi Che ci ha preso Ma è stato velocissimo È stato rapido Insomma no Seriamente Se dovessi incontrarmelo davanti Con quella velocità Io come faccio a scappare Bene o male Aghiwaghi comunque aveva una velocità tale Che ci permetteva di scappare Questo è stato rapidissimo Ma subito Ma è stato una scheggia Cioè questo qua è giallo Come un fulmine Non è giallo di colore Non è giallo perché Il colore è giallo È giallo perché è veloce Come un fulmine Ma dai Va bene Questo terzo filmato Si chiama Poppy Playtime Capitolo 3 Daisy Chase Shane Più Jumpscare Chase Shane significa che Niente Ci starebbe rincorrendo Quindi vediamo Quando Daisy Ci incorre Ci insegue Tocchiamo subito Play Vediamo pure lo Jumpscare Come è diventato No guardatela Daisy ci sta inseguendo Ah qui ho capito Quando dobbiamo scappare da Daisy Mentre lei ci sta inseguendo Come se fosse una sorta Di fuga finale Come ad esempio Quella da Momio Da Aghiwaghi Ok Il player sta correndo di qua Vai di qua Scendi 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 Veloce Uno scivolo Un condotto No siamo finiti Ci siamo presenti Persi Mamma mia Daisy Che roba Potevi avvisarmi Capisco che c'era Uno Jumpscare All'interno di questo video Però Poteva pure avvisarmi Ma che roba Ma dai Devo dire che comunque È stata molto interessante Questa corsa Che avevo fatto da Daisy Cioè lei stava correndo E noi siamo Scappati Fino a quando Poi non ci ha raggiunto Potrebbe essere Praticamente la fuga finale Quando noi dobbiamo scappare Dal nemico finale Bisogna sempre vedere Se sarà realmente Daisy Il vero nemico Numero uno Di Poppy Playtime 3 Oppure potrebbe essere Un normale nemico Come lo era Ad esempio P.G. Pagapillar I Minaghiwaghi E Banzobanni Vai Adesso vediamo Quest'altro filmato Si chiama Poppy Playtime Capitolo 3 Playcare Entrance Quindi vediamo Praticamente L'ingresso Del Playcare La famosa zona Di Poppy Playtime 3 Che non vedo l'ora Di esplorare Non vedo l'ora Di entrarci dentro Per vedere Che cosa è nascosto Ok Tocchiamo play Andiamo a vedere L'ingresso di questo Playcare Sempre fatto da Motia Games Questo video Che veramente Ha fatto benissimo Cioè sembra Veramente il gioco Davanti Sembra che veramente Stia giocando A Poppy Playtime Con questo tizio Eccolo Welcome to Si Guardatelo E' proprio lui Il Playcare Ma aspettate Aspettate Torniamo indietro Perché mi è andato Avanti qua Voglio far vedere Qua una cosa Il Playcare A quanto pare E' cambiato Non è più lo stesso Da notare che Non so se si riesce a leggere C'è scritto Spot the difference Quindi praticamente Questo qua è l'ingresso Per andare a fare il gioco Spot the difference Quello di trovare Le differenze Tra le varie days E trovare quella Originale E questo qua Mi sembra che era L'ultimo video Di Motia Games Per quanto riguarda Questo video qua Adesso andiamo Al video successivo Che si chiama Mommy Long Legs Ha bisogno di aiuto Poppy Playtime Capitolo 3 Gameplay numero 10 Perché il decimo gameplay Che questo youtuber ha fatto Si chiama Lazy Playtime Va bene Andevolo a vedere insieme Vediamo che cosa nasconde Quindi Mommy Long Legs Ha bisogno di aiuto Ma povera mommy Ma come Cioè prima ci voleva Prendere così Che ci voleva far fuori Adesso ci chiede pure aiuto Eh scusa Devo pure aiutarla Ma dai Vabbè Tocchiamo play Andiamo avanti Ok è stata raccolta Una chiave Noi siamo qua In una zona particolare Ma quello È Candy Cat Ciao Candy Cat Tutto bene Ma dai Ok Ok sì Lazy Playtime Ha messo il marchio Del suo canale Lì sopra Ma quello è Poppy Ciao Poppy Tutto bene Ah devo pure seguirti Dopo che mi hai fatto pure De ragliare il treno Eh E andiamo Vediamo dove ci sta Cos'è È stata rapita Da Non lo so Aspettate Aspettate Rivediamo un attimo La scena Vuoi capire chi sia stato lì A rapirla Che è che l'ha rapita Vediamo Vediamo Ok Pian piano Eccolo qua Sì Aspettate Ma non vorrei dire Ma quel braccio Mi sembra quello di Daddy Long Legs Eh perché È di colore blu E sembra quello di Daddy Pure magrolino Come era quello di Mommy Quindi in questo caso Poppy Non è stata più rapita Da Mommy Long Legs Ma da Daddy Long Legs Ma dai Va bene E niente Ciao Poppy E bentista Così ti impari A farmi deragliare il treno Mentre me ne vado via E ora Da notare lì dietro Quella cosa gigante Di Candy Cat Eh Tutto c'è Non l'ho visto ancora Mommy Sì Oh mamma mia Guardatela Mommy che ha messo Help Sta chiedendo aiuto Mommy sta chiedendo aiuto Guardatelo Ma dai Ma che roba E quindi E quindi dobbiamo aiutare Mommy Non lo so Aspettate Aspettate Qui è già partito D'altro video Questo si chiama Poppy Pletan Capitolo 3 New gameplay trailer Fatto Da Buggy Uggy Che fra poco Andremo a vedere Però il video di prima È veramente molto Molto riflessivo C'è Daddy Long Legs Che si porta via Poppy E poi dall'altro lato C'è il braccio di Mommy Che chiede aiuto Vabbè E vediamo questo trailer Vediamo cosa nasconde Questo trailer Fanmade Lì sotto Ha portato Ha portato in vita Vabbè Questo qua Da come vedo Da come vedo Devo dire Devo dire che ho visto Dei trailer Fatti molto meglio Molto molto meglio Cioè questo qua Alla fine era Un mix Fra vari video Direi a vedere subito I video successivi Questo qua Fatto sempre da Lazy Playtime Dandy Long Legs Che rapisce Poppy Poppy Playtime Capitolo 3 Gameplay numero 9 Ah qui stiamo andando indietro Però Lì c'è l'ingresso Per il Candy Cat Vai La zona di Candy Cat Com'è che si chiama Non riesco a vederla Perché la scritta Sta in alto Quindi non me la fa vedere Però c'è qui La chiave di Candy Cat Ciao Eccola qui Chiavetta presa E ora Cosa dobbiamo fare Mi sa che sto video Forse è quello Che abbiamo visto poco fa È uguale Si è aperta qui la porta E c'è sempre Poppy Cara Poppy Tutto bene? Non lo so Sta sempre andando lì dentro E ora cosa succederà mai? Proviamo Ma cosa? Eh sì Ma è lo stesso filmato di prima È uguale Ma dai Adesso lì di lato dovrebbe Ah no Questa volta però non c'è Qui invece che Ah Da un'altra angolazione Questa volta Stavolta visto da un'altra Parte Che continua dopo 5.000 like Vabbè Ha fatto il proseguimento L'abbiamo visto poco fa Direi di andare avanti E questo video si chiama Incontro con Daddy Long Legs Qui incontriamo per la prima volta Il nostro caro papino Daddy Il papino dalle braccia lunghe Quindi vediamolo subito insieme Questo è l'ultimo video Per quanto riguarda appunto Questo video che stiamo facendo L'ultimo video è che andiamo a reagire Quindi andiamo qua Tocchiamo play E vediamo cosa succede Dovrebbe essere il proseguimento Di quello che abbiamo visto poco fa Ossia quando poppi Viene rapita da Daddy Long Legs Ok Ora di lato dovremmo incontrare Il braccio di Mommy Eccolo là Che ci chiede aiuto Ma da chi deve essere aiutato? Vabbè Lasciamo perdere Eccolo qui la zona Cos'è? Cat B Ma dai Come Cat B Io voglio vedere Daddy Long Legs Fatemi vedere Daddy Long Legs Ma dai Si chiama incontro con Daddy Long Legs E poi mi portano qua da Cat B Ma no E io voglio vedere l'altro Vai player Vai dall'altra porta E niente Mi tocca vedere qua Ah no Però lì davanti c'è la mano di Daddy Long Legs Vuol dire la porta Vai Metti la mano gialla Veloce Metti quella manina Voglio vedere Daddy Long Legs Fatemelo vedere Su Non lasciatemi così Sulle spine Che sta succedendo? Si sta aprendo la porta Eccolo qua Ecco il primo incontro con Daddy Long Legs Spettacolare E quindi che dire I video da reagire Sono finiti qua Fatemi sapere cosa ne pensate Fatemi sapere se vi piace questa tipologia di video Dove andiamo a scoprire insieme I filmati più nascosti di Poppy Pretai In capitolo 3 Il video finisce qua Spero che questo video vi piace tutto Se vi è piaciuto mi raccomando Spalliciate Se vi siete iscritti al canale Con la campanella attiva L'avventura non finisce qua Perché qui davanti a voi Compariranno ben 4 schede Con 4 serie differenti Cliccatele una Buona visione E ci vediamo direttamente In una di quelle serie Ciao a tutti E buon panino a tutti